Il sigillo trecentesco è un modo semplice per esprimere la gratitudine, l'affetto e la stima della città verso un suo concittadino che ha saputo esprimersi a livello d'eccellenza nell'arte, nella cultura e nella professione. Con queste parole il sindaco Roberto Cosolini ha conferito il sigillo della città di Trieste al maestro Carlo Deine Contrera, compositore, musicologo, docente di storia ed estetica della musica del Conservatorio Triestino della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste. Alla semplice ma significativa cerimonia svoltasi nell'esalotto azzurro del Palazzo Municipale Triestino sono intervenuti anche la Sessione alla Cultura Franco Miracco, il Presidente della Provincia Maria Teresa Bassaforopat e le Sommintendente del Teatro Verdi Claudio Orazzi. Ricordando lo straordinario curriculum del premiato i comuni incontri per la valorizzazione culturale della città e il suo amore per Trieste il sindaco Cosolini ha evidenziato come Carlo Deine Contrera è stato un testino troppo bravo per lavorare a Trieste. Dal canto suo sono state poi ricordate le numerose attività svolte da Contrera. Emozionato e commosso dal canto suo Carlo De Contrera ha ringraziato Cosolini per questo riconoscimento, un sigillo che mi ripaga di un qualcosa che avrei voluto fare in questa città. Dedico questo sigillo, ha aggiunto il maestro Deine Contrera a mio padre che ha saputo darmi l'amore per l'arte, per la cultura che mi ha inculcato, l'amore per questa città alla quale vorrei dare quello che ancora non ho dato. La cerimonia in municipio si è poi conclusa con la firma e la dedica del maestro Deine Contrera sul libro d'oro del comune.